benvenuti in questo nuovo video unboxing oggi andremo ad un boxare l'apple watch ultra 2 questa volta mi sono munito di forbici altro che aprire con le mani che ci stavo 30 anni come vedete già l'abbiamo aperto questa è la scatola andiamolo ad aprire ragazzi l'interno della scatola è tipo così anche qui c'è scritto ovviamente apple watch è da scatola tipo e questo librettino ovviamente la scatola c'è il simbolo dell'apple watch in rilievo come appunto gli iphone cinturino blu io l'ho preso con il cinturino quello gommato blu andiamo a tirare le linguette qui c'è l'apple watch questa è la forma raga tutti i vari sensori qua dietro apertura cinturino questo cinturino devo dire sembra molto premium nonostante sia gommo cinturino devo dire sembra molto premium nonostante sia gommo sempre abbastanza prima, andiamola a montare, vediamo se ci riusciamo prima ragazzi è la prima volta che uso un Apple Watch, anche che lo tocco per la prima volta dal vivo non avevo mai avuto un Apple Watch prima, non ho idea di come io l'abbiamo montato spero sia dritto, non ne ho la minima idea, vediamo se si accende prima di tutto se scarico non lo so, o che ragazzi si accende, quindi la batteria c'è ovviamente adesso me lo dovrò configurare con il telefono, ragazzi c'è anche il tastazione come nell'iPhone forse questo qua, non lo so, vabbè, poi c'è la rotellina ovviamente per cambiare menu velocemente adesso vediamo se riesco a collegarlo con il telefono, ragazzi non riesco adesso a collegarlo con il telefono perché ci sto registrando appunto, quindi non posso farlo, comunque adesso me lo configura poi ve lo farò vedere Apple Watch configurato, come potete vedere richiede anche il codice, se ho dovuto mettere il codice non chiedetemi perché ma era obbligatorio non capisco il motivo logico, però vabbè meglio essere protetti ragazzi, questa è la schermata home ovviamente basta questo codice, basta cominciamo già male ragazzi, vabbè queste sono le varie impostazioni ovviamente tutte le impostazioni, allenamento, tasto azione per selezionare qualsiasi tipo di allenamento ragazzi questo per allenarsi è veramente il top ragazzi ovviamente si tratta di Apple Watch Ultra 2 era l'ultimo in commercio spero che questo unboxing vi sia piaciuto e che questo smartwatch vi sia anche piaciuto a me piace tantissimo, soprattutto l'ho preso blu per abbinarlo al mio telefono appunto che è anche blu se vi ricordate noi ci vediamo domani con un'altra unboxing di un altro prodotto ragazzi lo scoprirete, lo scoprirete domani ciao a tutti